Il video di oggi ti servirà per prepararti l'esame teorico della patente, ma soprattutto per affrontare la prima fase dell'esame di guida in cui l'esaminatore o l'esaminatrice potrebbe chiederti di accendere determinate luci e per farlo dovrai conoscere i simboli dei prodotti sulle leve sui pulsanti dell'autovettura, nonché le relative spie che ti confermeranno appunto l'accensione dei relativi dispositivi di segnalazione luminosa, le luci. Iniziamo a scoprire quali sono e come si accendono le luci dell'autovettura. Alla fine del video ti do anche qualche utile consiglio su come affrontare all'esame di guida questa prima fase relativa alle luci. Nei video precedenti ti ho descritto le tre fasi in cui si suddivide l'esame di guida e poi ti ho spiegato quello che ti potrebbero chiedere all'esame di guida relativamente alla parte esterna dell'autovettura come ad esempio l'apertura del cofano e del baule, la verifica del livello dell'olio eccetera eccetera. Se te li sei persi ti lascio qui sotto in descrizione il link per poterli vedere oppure clicca sulla i qui in alto a destra. E se non vuoi perderti i prossimi video iscriviti al canale e clicca sulla campanella. In questo video ci occupiamo delle luci ed iniziamo subito a vedere quali sono le luci della nostra macchina e come si accendono. Iniziamo dalle luci che non tutti i veicoli hanno soprattutto quelli un po' più datati. Sto parlando delle luci di marcia diurna che sono quelle belle luci bianche anteriori a led. Si accendono automaticamente accendendo il motore e di norma non hanno né pulsanti per accenderle né solitamente spie che ne indicano l'accensione. E quindi come facciamo a sapere se sulla nostra macchina ci sono e sono accese le luci di marcia diurna? Il modo più semplice e anche banale è quello di accendere il motore, tirare il freno a mano e posizionare il cambio in folle, scendere dalla macchina controllando prima di poter aprire in sicurezza la portiera ed andare a controllare se ci sono semplicemente guardando davanti. Dal computer di bordo della macchina sarà ovviamente possibile decidere se attivarle o disattivarle ma non complichiamoci troppo la vita con cose che per adesso non servono. Non ti spiego in questo video quando e come vanno utilizzate le luci ma farò presto uno specifico video in proposito. Le prime luci che accenderemo noi manualmente saranno le luci di posizione ovvero due luci bianche davanti, rosse dietro e giallo ambra se laterali con cui si accenderanno anche automaticamente le luci della targa e della strumentazione. Come dice la parola stessa le luci di posizione servono semplicemente a mostrare agli altri la posizione ovvero la presenza del nostro veicolo e non ad illuminare la strada. Il simbolo delle luci di posizione è questo e una volta accese si attiverà la relativa spia di colore verde. Solo dopo aver acceso le luci di posizione che quindi rimarranno attivate potremo accendere le luci anabaglianti ovvero due luci anteriori che andranno ad illuminare la strada davanti a noi senza bagliare i conducenti degli altri veicoli o gli altri utenti della strada come ad esempio pedoni o ciclisti. Il simbolo delle luci anabaglianti è questo ed una volta accese si attiverà la relativa la spia sempre di colore verde come le luci di posizione. Nel caso in cui trasportassimo dei passeggeri sui sedili posteriori e magari anche con i relativi bagagli pronti per partire per una vacanza succederebbe che il veicolo a causa del peso dovuto appunto a passeggeri e bagagli si abbasserebbe posteriormente e automaticamente si alzerebbe anteriormente causando un anomalo orientamento delle luci anabaglianti che alzandosi andrebbero ad abbagliare gli altri utenti della strada. Per fortuna sulle autovetture c'è la possibilità di regolare l'altezza delle luci anabaglianti con questa rotella. Più carico sarà il veicolo più dovremo abbassare le luci anabaglianti e per una corretta regolazione sarà opportuno posizionarsi davanti ad un muro per avere un riferimento della regolazione dell'altezza delle luci. Solamente dopo aver acceso le luci di posizione e le luci anabaglianti si potranno accendere le luci abbaglianti chiamati anche proiettori di profondità perché fanno luce in lontananza illuminando quindi la strada a grande distanza. Vanno utilizzati con attenzione perché potrebbero abbagliare gli altri automobilisti o comunque gli altri utenti della strada. Il simbolo delle luci abbaglianti è questo ed una volta accese settiverà la relativa spia questa volta di colore blu che è anche l'unica spia in macchina ad avere questo colore. Un altro tipo di luce che utilizzeremo molto spesso sono gli indicatori di direzione chiamate più frequentemente frecce. Ricordati che sono sei in tutto gli indicatori di direzione e non quattro come spesso si pensa. Di frecce infatti se ne trovano due davanti, due posteriormente e due laterali ovviamente una per lato quindi tutto saranno tre per lato. Il loro simbolo è questo e una volta accese si attiverà la relativa spia di colore verde lampeggiante ed abbinata anche ad una segnalazione acustica. Quelle che abbiamo visto fino adesso sono le luci che normalmente utilizzeremo più spesso ovvero luci di posizione e abbaglianti, gli indicatori di direzione e poi un po' meno spesso gli abbaglianti. Ma l'autovettura ha molte altre luci che dovremo sicuramente saper accendere anche nel caso in cui ce lo chieda l'esaminatore o l'esaminatrice il giorno dell'esame. Continuiamo quindi a vedere quali sono le altre luci della macchina. Quando per qualunque motivo decidiamo di rallentare utilizzando il freno sarà opportuno che chi sta dietro di noi lo sappia di modo che anche lui inizi a rallentare per non rischiare che ci tamponi. Sappi che ogni volta che si preme il pedale del freno posteriormente si accenderanno automaticamente tre luci rosse di intensità maggiore quindi più forte rispetto alle luci di posizione. Per verificarne il funzionamento e per essere sicuri quindi di non avere qualche lampadina dei freni bruciata ci sono due modi. Il primo è quello di premere il pedale del freno e chiedere magari ad un nostro amico di controllare il funzionamento vicino ad una vetrata, premere il pedale del freno e controllare sul riflesso della vetrata stessa che le luci funzionino. È capitato che a volte l'esaminatore chiedesse proprio come fare per controllare il funzionamento delle luci dei freni. Adesso sai come si fa e così gli risponderai correttamente e farebbe la figura. Un'altra luce che chiedono molto spesso di accendere durante la prima fase dell'esame di guida è la segnalazione luminosa di pericolo, quella che in gergo viene chiamata quattro frecce, anche se in realtà come visto poco fa le frecce sono sei e non quattro. Per attivarle dovrai ricercare sulla plancia comandi il pulsante con questo simbolo. Una volta premuto si attiverà la relativa spia rossa a luce lampeggiante insieme anche al lampeggio simultaneo degli indicatori di direzione e dalla relativa segnalazione acustica e ovviamente inizieranno a lampeggiare simultaneamente cioè contemporaneamente tutte e sei le frecce della macchina. Questa segnalazione si usa quando il veicolo ad esempio ingombra la carreggiata per avaria, per incidente o chissà quale altro motivo. Si userà anche ad esempio in caso di improvvisi e bruschi rallentamenti o incolonamenti magari in autostrada e l'ultimo veicolo della coda le dovrà tenere accese. Si usa anche ad esempio quando sarà necessario scendere dal veicolo per andare a posizionare il segnale mobile di pericolo detto anche triangolo. Ancora si usa in caso di traino di veicoli in avaria e anche quando si è costretti a procedere a velocità talmente ridotta da rischiare di creare pericolo o grave intralcio alla circolazione. Poi ci sono i fendinebbia obbligatori posteriormente su tutti gli autoveicoli mentre anteriormente sono optional cioè non per forza presenti su tutti i veicoli. Il fendinebbia posteriore chiamato anche retronebbia ha questo simbolo e una volta acceso si attiverà la relativa spia di colore giallo ambra. I fendinebbia posteriori possono essere a uno o due luci rosse molto intense per poter essere viste anche in caso di scarsa visibilità e andranno utilizzate nel caso in cui la visibilità si riduca a meno di 50 metri per nebbia, nevicata o pioggia intensa. Il simbolo di fendinebbia anteriori è questo e una volta accesi si attiverà la relativa spia di colore verde. Essendo optional non ci sarà mai l'obbligo di accenderli. Se il veicolo ne fosse sprovvisto in caso di scarsa visibilità utilizzeremo le normali luci anabaglianti. Tieni presente che prima di accendere le luci fendinebbia dovrai per forza aver acceso almeno le luci di posizione. Continuiamo con la luce della retromarcia che possono essere una o due posteriori di colore bianco. Si accendono automaticamente ogni volta che si inserisce la retromarcia. Hanno la funzione di illuminare anche se poco la zona retrostante al veicolo nonché di avvisare i veicoli che ci sopraggiungono da dietro della nostra manovra. Ci sono poi le luci di sosta chiamate anche luci di stazionamento che non tutti i veicoli hanno. Fanno accendere una luce bianca davanti, una rossa dietro e una giallo ambra lateralmente se presente. Vanno utilizzate solo quando si sosta al margine della carreggiata di una strada urbana cioè nel centro abitato se non è illuminata e andranno accese solo quelle poste dalla parte del lato traffico ovvero dal lato in cui ci passeranno a fianco gli altri veicoli. Ed infine ci sono loro le luci di cortesia che sono le luci interne al veicolo. Si accendono automaticamente ogni volta che si apre una portiera ma si possono anche accendere manualmente premendo l'apposito tasto. Abbiamo visto quelle che sono le luci più importanti della macchina ovvero quelle che ti potrebbero chiedere di accendere all'esame di guida durante la prima fase. Ricordati che l'accensione delle luci non è esattamente uguale in tutte le autovetture. In alcune dovrai premere dei pulsanti, in altri dovrai spostare una leva o girare una ghiera ma non sarà niente di difficile. L'altra cosa da ricordare è che alcune luci per funzionare hanno bisogno di corrente e per dare corrente alla macchina dovrai girare con delicatezza la chiave di accensione o premere un pulsante fino ad accendere il quadro davanti a te ovvero fino a quando vedrai apparire delle spie luminose. Non necessariamente ti servirà quindi accendere il motore per far funzionare le luci a meno che non si vogliono accendere le luci di marcia diurna ovvero le prime luci che abbiamo visto in questo video. Infine se ti dovesse venire qualche dubbio su come fare per accendere una qualsiasi luce con magari gli occhi dell'esaminatore o dell'esaminatrice puntati addosso respira stai calmo e cerca sulle leve o sui pulsanti davanti a te il relativo simbolo della luce che vuoi accendere. Nel giro di un paio eterni probabilmente secondi lo troverai e accenderai la luce corretta. E' meglio fare così piuttosto che iniziare a premere pulsanti e spostare leve a caso con il rischio di accendere tutte le luci tranne magari quella che ti interessa. Finisce qui questa parte di prima fase dell'esame di guida dedicata alle luci ci vediamo presto con il prossimo video qui sul canale guidare oggi con Andrea e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale ciao ciao